Amore mio, ti ho fatto il bagnetto nonostante sia il tuo compleanno? Povero cane... Ma digli cane, ci stiamo trovando bene a fare il bagnetto qua in doccia? Sì sì, ovviamente lo facciamo quando siamo nelle aree camper in modo tale da avere acqua a sufficienza non solo per lavare il CP e me, ma anche per lavare tutto il bagno dopo Sì sì, dai d'inverno direi che è una pacchia avere il cagnolino Ma che vero amore mio, sì che ci facciamo compagno e ci scagliamo Ma d'estate no, povera, soffre anche lei, si soffre tutti e due, non si respira proprio A proposito di non si respira, qualche tu sa che io sono pesantemente allergico alla polvere E allora, tac, soluzione! No, non è lo sgrassatore, ho solo recuperato il spruzzino Per mettergli dentro acqua e aceto Mi serve più che altro non solo per l'odore del cane ma anche per disinfettare e fermare la polvere Diciamo l'aceto è uno dei rimedi naturali per la polvere Poi se funzioni veramente, questo non lo so, lo vedremo Digli il CP, perché il tuo padrone qua spazzola e scopa più o meno 4-5 volte al giorno Solo che è impegnativo tutti i giorni, tutti i giorni pulire 4-5 volte al giorno Questo ovviamente è per il cane, se no non respiro più, mi si tappa il naso proprio non respiro più Un aiuto ce l'ho da questo spruzzino Per carità è anche vero che se non avessi tutto sto alcantara e magari qualcosa senza tende, non lo so Sti problemi non ci sarebbero stati L'enormità di pulmin Cosa c'entra? Non lo so Volevo solo farti vedere l'asciugatrice in camper La vecchia scuola insegna Tec! Eh sì, la roba attaccata al termo, no? Frullato di banana Però ho tutte le banane a parecchio avanti Devo farle tutte, ma dove le metto? Che bontà! Con il latte di avena Tec! Certo che Italia è tutto bello Oggi cos'è ancora? Lunedì Avevo messo anche il numero civico È venuto fuori che a Segusino in provincia di Treviso ossia a 6,2 km dall'area camper di Valdobbiadene dove sono io c'è un'altra area camper gratuita concorrente Andiamo a curiosare Tec! La stronzetta ovviamente adesso ha ripreso a non funzionare Però vabbè pazienza, guarda Tec! Si accende quella dietro Bene, ho scaricato Ciao partenza, arrivederci! Sono rimasti tutti full timer cioè quelli che vivono in camper C'è una roulotte e due camper che le ho già occhiate anche l'altra volta sono sempre quelli Che paradiso qua Italia Freddo, ma non troppo E aree camper concorrente gratuite ovunque Sì, tra l'altro ovviamente le aree camper gratuite sono in belle zone Non è che sono in zone industriali sono in zone turistiche, storico-culturali è il cane che porta in giro il legnetto Quindi hai anche la possibilità poi di andarti a fare un bel giro visitare, esplorare, girare in bici U-A-U Quest'area camper di Segusino dovrebbe essere tra l'altro Vado a sentire la grande guerra sulle rive del Piave quindi insomma c'è anche un bel po' di percorso panoramico So, c'è chi preferisce il sole però guarda Italia quanto più rilassante è tanto c'è riscaldamento e te frega C'ho pure i vestiti c'è proprio extra lusso voglio dire Veloci B Uh bello Guarda che centrale è antica hai visto? Guarda hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Che ficcata Credo che mi piacerebbe anche quest'area sosta Sai letteralmente o meglio sarai letteralmente in riva al fiume e c'hai tutte queste colline Guarda che bello Avrebbe essere qua non vedo niente Ti dirai più vedo delle sbarre Eh ma allora l'hanno messa a pagamento Ma no allora torno indietro Mi hanno già preparato anche il cavo L'outfit di oggi è Pijama e scarponi Andiamo a vedere sta aria invece No Area camper gratuita C'è la sbarra con una tessera per uscire Area camper gratuita Ok Strana sta roba Comunque va benissimo Guarda Bellissimo il parco che abbiamo lì Se cato un campo da basket sono ancora più felice per via della schiena sai Devo fare dei tiri a basket per star bene Bello Tutto bello e andremo a scoprire magari anche la città Vedo alle mie spalle qui una chiesa ma non molto ancestrale Sicuramente di bello ci saranno anche i percorsi da fare lungo al piave Comunque bando alle cianze trasferiamo l'abitazione Abitazione ti avevo messo proprio in mezzo alle scatole lì CP oggi abiti qui Allora azendi la casa inserisci le chiavi di casa gira le chiavi di casa spegne il riscaldamento di casa e ascendi il motore di casa allora vicino sbarra biello faccio prima un disastro di colonnine solo no io devo anche caricare prima oh ma guarda Italia ti danno proprio la tessera vera e propria che roba deluso però veramente cassa automatica area camper gratuita confermare il pagamento non verrà non inserire monete o banco ma ah ok 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 a posto pensavo mi avessero già inculato che con area camper gratuita ti facevano entrare poi ti facevano pagare in realtà no diciamo c'è l'obbligo di avere sta tessera e poi con la tessera esci gratuitamente ma guarda che fantastica ragazzo illuminata video sorvegliata il disastro di colonnine ogni colonnina guarda quante ne vedi ha quattro presi della corrente il veneto spacca ragazzo si si diciamo che se devo farmi un lockdown da solo tipo quello che sto facendo in questi giorni lo faccio più che volentieri qua comunque l'acqua è qua guarda che roba guarda che pulizia guarda che ordine guarda che chiusa l'acqua questa non è una buona cosa ecco perché forse non c'è nessuno i full timer sono tutti di là io ho bisogno di acqua probabilmente allora se già l'acqua non funziona ragazzo mi sa tanto che qua pure la corrente non va andiamo subito a provare peccato che era molto bella però attento se non ho ragione no non c'è proprio acqua no la corrente va ragazzo solo l'acqua manca beh arrivati e mi vieni vieni a fare il giro ancora il mio zpi bella come il sole a questo punto niente devo tornare lì a valdobbiadene siamo tipo a 6 km non è che siamo chissà quanto caricare l'acqua e poi venire qua corrente sì carico scarico no guarda cosa sono schiaccio qua arco che viene fuori acqua vabbè ma non puoi caricare da lì ed è poco però potrei attaccarmi lì con la potrei attaccarmi lì col mio adattatore universale che campa cavallorè però se lì c'è acqua vuol dire che qui proprio l'hanno chiusa è strano vabbè dai usciamo andiamo di là dai non stiamo a perdere tempo prima di andare a prendere l'acqua aspetta voglio vedere un attimo quel sentiero dove porta qua dove vai ma guarda che peccato quello dell'acqua vabbè dai cazzo c'è ripio wow qui c'è un percorso lungo il piave guarda che bello Italia appena fuori casa bello 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 dai ai miei ci sono dei cani lì dai andiamo andiamo a caricare l'acqua ma aspetta un attimo fammi vedere sta roba c'è l'acqua c'è veramente dappertutto tranne qua porca troia no è troppo largo purtroppo e qui sopra hanno messo una guarnizione tipo usaggetta quindi niente devo andare e tornare fortuna che non ho impegni allora niente non si apre quando vado alla macchinetta alla cassa automatica mi dice carta abilitata per l'uscita ma quando vengo qui mi dice area carta non valida allora chiamo il primo numero che mi dice che per l'acqua strano che non funzioni il rubinetto dell'acqua e vabbè comunque ha detto di chiamare un altro numero che arriva il signore ad aprirmi e chiamo l'altro numero e non risponde quindi sono chiuso chiuso qua vabbè sono riuscito a mettermi in contatto con quest'altro signore per l'acqua manderà diciamo i tecnici gli addetti e vabbè intanto io vado a caricare lì e vado a dobbiadene e mi diceva che si può uscire per il cancello quello di legno che abbiamo visto che prima ti ho detto dovrei passarsi adesso niente ti metto giù che devo fare due o tre manovre perché c'è l'erba qua ok ci sono passato adesso in teoria da qua si dovrebbe uscire magari c'è anche un rubinetto qualcosa da ste parti oh non lo so che giro stiamo facendo però Italia ho visto lì il campo da basket bravo o brava visto che l'Italia è femminile purtroppo sono quei campi da basket quelli senza la cesta no io preferisco quelli con la cesta dove fai entrare il pallone nella cesta ok si esce anche se la strada ha tratti molto off road con pulmini dondoli 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 e tagada ok ecco qua l'uscita no comunque no ritorno qua lo stesso vado a caricare ritorno qua lo stesso quindi piazza qua ecco perché l'area camper ci deve essere proprio c'è tutto il percorso da fare via bike io vado al monte doc ma che bella sta chiesetta ficata personalmente come area sosta se devo vederla solo come area sosta preferisco di gran lunga quella di valdobbiadene questo perché in quella di valdobbiadene non mi salta la corrente quando metto la resistenza alta dell'alde poche parole quando metto riscaldamento a corrente ho una potenza bassa e una potenza alta che fa tanto caldo quella alta che fa tanto caldo qui fa saltare la colonnina che mangiata incredibile cp ma si si stilacchiamoci ma raccontiamo che questa notte si che era il tuo compleanno sei voluto venire a fare le nane con me abbiamo fatto le nane le nane assieme ah e non è mai non è mai successo e ciao lei si vede che sente il compleanno hai visto la sera che l'abbiamo portata fuori era ultra felice chissà cosa che sentiva proprio che era il suo compleanno poi alla sera quando era l'ora di andare a dormire niente era lì che mi veniva nel letto voleva salire voleva salire non l'ha mai fatto e ho detto vabbè a parte che il suo compleanno vabbè sono cose senza senso ma il cane alla sua età e tutto quanto vedrai che poi un giorno le rimpianzerai quindi oltre a farla star bene esaudire questi suoi desideri insomma ci sarà una sorta di rimpianto nel futuro quindi ho detto su cp e abbiamo fatto le nanine assieme eh tante nanine assieme per carità le avevo fatto il bagneto si profumavi di albicocca ah caro mio cp eh dopo lavoro promesso ho risolto i problemi dei videogiochi nel mac xbox e via il computer lo tieni per lavoro pausa lavori provo a vedere se sono capace di aggiustare se che il contachilometri non si vedeva più quindi adesso smonto un attimo ok c'è da alzare anche questo quindi c'è da smontare tutto quello e vediamo se basta il riattivante elettrico ma in teoria si dopo già che ci sono ho anche delle lampadine a led quindi le metto le metto dietro ok dopo aver smontato metà pulmina è venuto fuori che guarda è questa lampadina qua quella del contachilometri che è bruciata dentro c'è il filo saltato che è bruciata il problema non è tanto trovarla in giro il problema è rismontare tutto da capo è un'impresa epica ragazzo vabbè niente rimetto tutto a posto mi tengo fuori la lampadina bruciata e basta la prenderò e dopo quando avrò voglia la monterò no non c'entrano nulla con quelle che ho io qua vabbè rimontiamo il casino anzi no aspetta già che siamo qua c'era un'altra che dava problemi qual era? mi pare che era il livello qui il livello della della temperatura del motore ok no quelle della temperatura del motore sono troppo nascoste nel senso che non ci entri col dito bisognerebbe proprio rimuovere tutto questo ma è un casino in Italia non ne vale la pena non ne vale la pena